Tragico pomeriggio a Caggiano, un 81enne del posto è infatti deceduto mentre stava raccogliendo degli asparici in località Boschi. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo intorno alle 7 di questa mattina è uscito di casa per andare a raccogliere asparici e sarebbe dovuto ritornare nella propria abitazione intorno alle 11 per un appuntamento. I parenti, non vedendolo ritornare, hanno allertato le forze dell'ordine. Sono scattate quindi le ricerche da parte dei carabinieri della stazione di Caggiano, dei carabinieri forestali, dei volontari della protezione civile Ampas di Caggiano e altri volontari del posto. Sul posto anche il sindaco Modesto la mattina, dopo diverse ore di ricerca, purtroppo la tragica scoperta. L'81enne era privo di vita, probabilmente colto da un malore, mentre stava cercando gli asparici. Sul posto anche il medico legale, il corpo è stato portato all'ospedale Luigi Curto di Polla per un esame esterno, poi sarà rilasciato ai parenti per la celebrazione dei funerali.